Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non i tecnici, non i politici, possa in realtà utilizzare questo strumento che in realtà nella storia dell'urbanistica da sempre, da quando sono nate le città, ha avuto sì una forma di partecipazione, però sempre di alto livello. Oppure all'interno, come diceva prima il professore, all'interno di stanze chiuse dove praticamente gli speculatori, piuttosto che i politici, piuttosto che i proprietari terrieri, organizzavano la loro idea di città e anche di futuro immaginifico delle comunità. Questo era quello a cui eravamo abituati, la gente comune, la casalinga, piuttosto che lo studente, non avevano accesso a questo tipo di decisioni. Li subivano e basta, non potevano nemmeno intervenire. Il principio fondamentale dell'Uban Center, quindi in Calabria, della legge 19 del 2002, ovviamente scardina tutto questo processo qua. Ovviamente far capire come la gente possa in qualche modo immaginare la società, dal nostro punto di vista, ma perché è una nostra difficoltà, principalmente nostra, e cercare di far capire come utilizzare questo strumento. Noi abbiamo qua, abbiamo organizzato, insomma, giusto, ripeto, per leggere un attimo, dei contributi filmati, insomma, dove si faceva capire come la partecipazione, no? Dello speculatore normale fosse alla portata di tutti, no? Forse alla portata di tutti, e forse più che alla portata di tutti fosse una cosa normale. E abbiamo preso come esempio l'inizio del film Mani sulla città di Rossi, e questo era come veniva gestita la città. E di questo noi siamo consapevoli. È questo che dobbiamo superare. E lo facciamo vedere subito, speriamo che... Sì, no, perché volevo vedere se c'era il volume. Non si sente niente? Vabbè, pazienza. Sperate che poi lo ripetiamo, dovete essere pazienti e poi lo ripetiamo. 60, 70 mila, e poi vedete... Iniziamo a capo, va. Iniziamo a capo. Il 5 mila per cento di... Lo chiudiamo e lo rifacciamo. Allora, un attimo, riprendo un attimo l'attenzione. Così veniva gestita la città, e questo era normale fino ad adesso, insomma, eh? Lo so che la città sta là e da quella parte sta andando perché il piano regolatore così è stabilito. Ma è proprio per questo che noi da là la dobbiamo far arrivare qua. E ti pare una cosa facile? E cambiamo il piano regolatore. Che cosa? E noi cambiamo il piano regolatore. Non c'è bisogno. La città, vai là, e questa è zona agricola. E quanto la puoi pagare oggi? 300, 500, 1000 lire al metro quadrato. Ma domani, questa terra, questo stesso metro quadrato, ne può valere 60, 70 mila, eppure di più. Tutto dipende da noi. Il 5.000% di profitto. Eccolo là. Quello è l'oro oggi. E chi te lo dà? Il commercio, l'industria. L'avvenire industriale del mezzogiorno, sì. Investi i tuoi soldi in una fabbrica, sindacati, rivendicazioni, scioperi, cassa malattia. Ti fanno venire l'infarto con queste cose. E invece niente affanni e niente preoccupazioni. Tutto guadagno e nessun rischio. Noi dobbiamo fare solo in modo che il comune porti qua le strade, le fogne, l'acqua, il gas, la luce e il telefono. Signori, più partecipazione di questa non esiste. È partecipazione questa. Cioè, lo speculatore partecipava alla vita, no, alla storia della città. La condizionava. Era lui, con i politici, sul pezzo di terra, faceva i suoi disegni, aveva già fatto i calcoli, il 5.000% di guadagno. Condizionava la città, avrebbe fatto nuovi quartieri, deve portare solamente, non devi fare niente, devi portare solamente la fogna, la luce, poi faccio tutto io, c'è problema. La città cambiava, si modificava, cambiava la storia. È partecipazione questa. Il meccanismo è esattamente questo. Partecipazione malata, negativa ovviamente. Ecco, negativa per i cittadini. Lui guadagnava, i politici guadagnavano, ma questa è partecipazione. Questo meccanismo, no, che è anche visionario, c'è anche della visione in qualche modo, questo meccanismo deve essere il vostro. Non dovete avere paura di sbagliare. Qual è il principio dell'urban center? È quello che vi mette a disposizione la possibilità di avere una visione. Vi mette a disposizione la possibilità di correggere la vostra visione. Chiaro? Questo è. Il livello, prima, nel mondo illuminista, c'era la classe intellettuale che con un colpo di penna verificava il fatto che, ma perché le merci devono passare da qua a fare il giro dell'Africa? Ma perché non si potrebbe staccare l'Africa dall'Asia? E con un colpo di penna immaginavano, in modo anche ingenuo, il passaggio di Suez. Ma era una cosa assolutamente immaginaria. Poi ci sono, immaginaria, immaginifica, però avevano ragione. Poi con i secoli hanno avuto ragione. E questo è quello che voi dovete fare. Utilizzare la vostra fantasia per immaginare una vostra città. L'urban center è il posto giusto, dove alcuni ragazzi, no? Ragazzi, chiedo scusa, alcuni professionisti, danno tutti gli strumenti per poterlo fare nel modo più coerente e più logico possibile. Il principio dello speculatore è quello dell'immaginazione, a suo vantaggio. Il vostro principio, quello che dovete superare, è l'immaginazione, a vantaggio di tutti. La proposta. Chiaro? Questo è, volevo, 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 che cosa poi, adesso chiudiamo insomma, insomma con, alleggerendo ulteriormente. Qual è il principio dell'immaginazione? Il principio dell'immaginazione ulteriore, quando poi diventa in qualche modo grottesca, si traduce nel filmato che adesso vedremo, che fa parte della storia della televisione italiana. Che loro hanno visto. Eh? Che molti hanno visto. Che molti hanno visto, proprio in diretta, probabilmente. Mi concetto, mi concetto. Il principio è semplice. È quello, è lo stesso che cambiare l'aria in una stanza. Che cosa facciamo noi? Apriamo o due finestre, o una porta e una finestra. E allora si crea, ora. In questo caso si crea un movimento circolatorio di aria e si cambia l'aria in una stanza. Io propongo di aprire una finestra in Val Padana. In fondo la porta ce l'abbiamo già. Da Trieste a... Nelle Veneci. C'è un solo punto dove aprire la finestra. Qui, sul passo del Turchino. Che cosa intende per spianare il passo del Turchino? Abbassarlo si non deve andare. Senza tutte quelle curva. Anche circa 4.000 persone che potrebbero benissimo. Ma con la neve? Ho capito. Ma lei si rende conto quanti migliaia di persone muoiono per via della nebbia? E quanti migliaia di migliaia di danni e infare il provo con la nebbia? Se ci va, se ci va, se ci va, se ci va, se ci va. E' un disco. E' un disco. E' un paesaggio fondamentale dell'Urban Center. E' andato là. E' andato là con l'idea di cambiare il paesaggio. Di cambiare la storia d'Italia addirittura. Ovviamente fa ridere, è un po' grottesco. Cioè, che poi gli dobbiamo fare pure un piano di fattibilità. Probabilmente si può fare, non lo so il professore. Però, voglio dire, è questo lo spirito dell'Urban Center. E' questo lo spirito dell'Urban Center. Avere un'idea immaginifica che cambia tutta la comunità. E' trovare qui dentro gli strumenti per poterla mettere a confronto. Magari anche realizzarla veramente. Ma un'idea grande, ampia. La più ampia possibile. Che riguarda non il tombino o la buca della strada, che è una cosa di manutenzione ordinaria. Ma l'idea stessa di comunità e di città e di struttura di città. Come questo qua voleva addirittura cambiare la struttura orografica degli appennini. Una cosa geniale. Comunque, insomma, grazie e spero di avervi un minimo divertito.